Come sta andando? Sono delle polemiche? Sì, buonasera a tutti. Sono iniziate da poco le operazioni preliminari relative allo scrutinio e anche in alcuni seggi lo scrutinio in se stesso. Già da questo pomeriggio abbiamo avuto modo di confrontarci tramite i nostri rappresentanti di lista con molti dei presidenti di seggio e al fine di verificare le modalità di scrutinio, poiché è entrata in vigore di recente una nuova normativa che impone l'estrazione dall'urna di ciascuna singola scheda, la registrazione della dichiarazione di voto riscontrata nella scheda elettorale e successivamente l'archiviazione della scheda secondo le modalità di suddivisione prescelte dal presidente di seggio. e abbiamo riscontrato che purtroppo in parecchi seggi non era intenzione dei presidenti procedere a questa modalità di scrutinio prevista dalla legge e inoltre adesso con le operazioni di scrutinio iniziate tramite il contatto diretto che abbiamo con i nostri rappresentanti di lista abbiamo verificato che in alcune sezioni stanno procedendo semplicemente sia alla estrazione di una scheda per volta ma senza procedere alla registrazione della scheda stessa del voto che è stato espresso nella scheda ma ammucchiando le schede una sull'altra e questo non è previsto dalla normativa oltre ad altri seggi dove vengono estratte le schede registrate ma viene registrato esclusivamente il voto dato al sindaco e non anche alla lista e la preferenza eventuale al singolo candidato consigliere. Senta, in quali seggi sono riscontrate le principali criticità? Ma ci risulta in alcuni seggi qui a Oneglia e anche in Caramagna. Un'ultima cosa, voi siete sempre stati molto attenti in questa campagna elettorale al rispetto della legalità e di ieri la vostra accusa al candidato Claudio Scaiola ormai possiamo dirlo, insomma eravamo sotto silenzio ma possiamo dire che lei ieri si è recata davanti al point elettorale di Claudio Scaiola è arrivata anche la Digos, cos'era successo? Già alle 11 ieri mattina un nostro consigliere aveva rilevato e comunicato alla Polizia Municipale la presenza di autovetture che esponevano dei simboli del candidato Scaiola parcheggiate da lungo tempo presso gli punti strategici e gli incroci della città. Inoltre anche il point presentava affissi alle vetrine in violazione alla normativa che era stata anche ribadita in sede di riunione convocata da tutta la provincia da parte della Prefettura di Imperia a cui aveva partecipato anche un rappresentante delegato per il candidato sindaco Scaiola nella persona del ragioniero Angelo Musso che però non ha provveduto a fare applicare la normativa ai point elettorali di Scaiola e quindi noi abbiamo chiesto, visto la segnalazione delle ore 11 da parte di un nostro consigliere alla Polizia Municipale e successivamente alle 17 io ero di ritorno da Genova ad un convegno internazionale sulla strategia rifiuti zero. Alle ore 17 era ancora tutto rimasto immutato e quindi ho provveduto a fare la segnalazione all'112. Mi hanno passato un brigadiere che molto gentilmente dopo alcuni minuti ha mandato due poliziotti, due agenti della Digos che hanno rilevato effettivamente le violazioni alla normativa e hanno intimato di staccare le affissioni elettorali abusive che erano affisse appunto alle vetrine del point di Scaiola, oltre a far allontanare la televisione che filo diffondeva le immagini della pubblicità elettorale di Scaiola che ricordiamo è in violazione alla normativa.